Hai voglia di un buon gelato? Di quelli che ti rinfrescano e ti regalano emozioni? Allora, prova quello del Bar Astra Gelateria. Più che un gelato, è una pasta cremosa che ti coccola il palato. Un gelato artigianale creato nel nostro laboratorio, fatto con materie prime di alta qualità. Attraverso l'esperienza del nostro gelatiere ed un innovativo sistema di raffreddamento, vieni a provare i nostri tre nuovi gusti. L'Indoor, Nutella e Bacchi di Goji. Bar Astra e Gelateria. Al centro di Pesaro, il centro del gusto.